Tutti liberi! Tutti liberi! Alessandria siamo sulla strada statale 10, la strada di ingresso alla città di Alessandria. Una sessantina di militanti in Ottav stanno bloccando la strada, stanno creando chilometri di coda perché oggi alle ore 18 in tutta Italia si è deciso di bloccare tutto in solidarietà con la Val di Susa. Questa è la risposta che stiamo dando. Chi pensa che usando i manganelli, chi pensa che con la militarizzazione della valle potranno un giorno riuscire a costruire la Ottav evidentemente ha fatto male ai propri conti. La cosa che tutti ormai devono capire è che la Val di Susa è ovunque, quella lotta ha travalicato i confini della Val di Susa e in tutta Italia ci sono persone pronte a fare i blocchi quando il Movimento Notav lo chiede.